A coscienza, voglio sapere che questa coscienza è la spessa giusto del nomadale, sto che spero di fare la conoscenza, spiegatemi, cosa significa? Questa parola è stata attaccata con un onore i video, ma ce l'ha segnato e un peccato e un ovale. Vai dire che stai l'automobile, si non sta l'automobile, tutto disprezzo e tutto qualità. L'arrozza o giovmesca mi la che sa che lo mandano i palmi. E' chi è denuncia qui? Che ero chi se un mesca? Si apprezzano la mia sorella quindi lo fa fatto. L'alugia o famoso giovinezza. L' alplomazione che fa un progetto. L'abasse. L'abasse. L'abasse sono microssevazza, siamo mandati alla mortalità. e in medicina poco t'hanno fatto, t'hanno impriagato pure nulla, si sono uscire un pomodacante, ringrazio a Dio, si segui da capo, ecco lo posso riuscire di famiglia, capello un pollo, marido, moglie, mamma, scuola, figlia, fammi sta zinta, non lo fanno, perciò il marito, sto maestro di scuola, in sta conoscenza, dopo a chi è qua, nessuno ha così più che sta parola, muoiono tutti, non lo fanno, insomma tu vuoi controcorrere, ma sta pensate che ti ha fatto fatto, agendiamo, sono accursi e corbe, senza accursi, potete accampare.